Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Oggi facciamo due chiacchiere con Cino Zucchi, architetto incredibile che della cultura dell'arte ha fatto sicuramente gran parte della storia italiana e internazionale, quindi saranno felicissimi. Nel frattempo sarà con noi Fiorella Minervino, qualche secondino che iniziano a derivare tutti quanti e poi partiamo subito con Cino. Quindi con le mani sporche, subito al lavoro. Per chiunque ci sia, poi chi apriremo lo stage, quindi chi vuole fare domande potrà salire, stiamo registrando per archivio, quindi chi sale su poi saprà in tal caso di questa opportunità. Vediamo due secondi, iniziamo giusto dalla base, 1995, un percorso di studi incredibile dal baccalo in scienze e art design, poi il Massachusetts Institute of Technology, insomma tantissime esperienze. Credo che non abbia bisogno di presentazione, nel senso che insieme a Cino Zucchi Architetti ha progettato e realizzato davvero tantissimi città, spazi pubblici, privati, parliamo dalla triennale, alla sesta, ottava, duecese, trecese ambientale di architettura di Venezia, installazione in Maxi, insomma direi che ci sono tanti aspetti oggi di cui parlare. Hai citato tante esperienze anche legate a quello che sta accadendo, hai detto chiaramente no ai futurologi, quindi oggi parleremo di cose concrete Cino. No, la futurologia è interessante, ogni tanto ci azzecca, per metà descrive il futuro e per metà descrive l'epoca che sta descrivendo, se guardiamo Metropolis, cioè se andiamo a prendere, cioè Jules Verne, Parigi nel XXI secolo, siccome ogni guest, ogni gioco alla roulette al 50% di probabilità di beccarci, tutte le futurologie hanno esattamente, come dire, le probabilità di indovinare in forma binaria, per il resto stanno rappresentando la propria società. Cioè in fondo i Jetsons sono la rappresentazione, la famiglia suburbana americana degli A50, solo che al posto della Portia c'hanno l'elicotterino, però sono di fatto una famiglia suburbana dell'America, per cui... E sta passando il tempo, però ancora non stiamo volando con le macchinette se ci pensi, però più o meno ci siamo in tal senso, no? Quindi anche oggi stiamo pensando a un futuro diverso in qualche modo? Posso? Certo Fiore. Allora Cina, nel marzo del XXI ti ho chiesto come sarebbero state le città post-Covid e tu mi hai dato una risposta diversa da tutti gli altri, ti ho intervistato per la stampa, ricordi? Dove appunto dicevi no ai futurologi, che comunque le città vuote, come erano fotografate, come le vivevamo così, davano il senso di quello che sono, cioè un insieme di vuoti e pieni e che se hanno, se le città mantengono questa loro robustezza, perseveranza, tu dicevi, E allora insomma, questo è fondamentale, non si può pensare a cambiamenti strutturali pazzeschi, perché poi dicevi una cosa molto poetica, per esempio sulle panchine continueranno a sedersi la vecchietta, gli innamorati e tutto tornerà praticamente come prima. Sei sempre di quell'idea dopo un anno? Allora, è un discorso complesso, nel senso io non sto, ho fatto un'argomentazione che a tratti sembrerebbe da conservatore, in realtà non lo è, perché noi siamo molto attenti a intercettare cose che sono in fiori, Ma poi, avendo l'architettura dei tempi medi-lunghi, almeno in Europa, ora, per esempio adesso sto completando un progetto a Cascina Merlata, il cosiddetto social housing, che era fatto per l'Expo Village e è iniziato nel 2010, l'ho progettato, sto tirando adesso giù il cantiere. La gente vivrà, si bacerà, farà da mangiare in questa cosa che è stato concepito dieci anni fa. Allora, un elemento di lunga durata è intrinseco nell'architettura, questo non vuol dire che non ci sia un progresso, certo che c'è un progresso, Ma se io lavoro sui dati di adesso, ora che l'edificio è costruito ce ne saranno ancora di nuovi, per quello forse devo mettere, intercettare delle tendenze, ma inserire nell'edificio, nello spazio aperto, degli elementi solidi, cioè un buon taglio. Il sole fortunatamente sorge sempre dalla stessa parte, trabocca la stessa parte, cioè l'astronomia dai maia da adesso non è cambiata molto rispetto all'orientamento del sole e così via. Tutte queste cose danno una robustezza agli spazi, intendo robustezza non in senso fisico, ma proprio di condizioni che gli permettono di sopravvivere anche a queste cose. Diciamo una generosità, una robustezza rispetto alla pura divinazione del trend. Cioè praticamente però tu dicevi non bisogna seguire le mode, pensare che viviamo un presente continuo, no, bisogna intercettare le cose importanti però non rassegnarci ai cigni neri che verranno, hai detto, ma avevi risposto. No, no, i cigni neri sono per definizioni imprevedibili, ma c'è un bel testo di Baudelaire che si chiama Il pittore della vita moderna, lui andava ai salons spesso e dice, un pittore oggi, parla in genere dell'arte, l'arte ha metà, non può che essere cronachistica, no? E metà invece, non dico che è eterna, ma tocca dei problemi sostanziali, lui stabiliva un 50-50. Allora quando noi leggiamo dei romanzi, no, certamente o vediamo la televisione, Pippo Baudo negli anni, quando vediamo le cose di Cocchi e Renato giovani, no, quella televisione lì, vedi che il taglio dei capelli o lo strombo dei pantaloni, sappiamo datare un film o uno spettacolo televisivo o forse anche un'opera d'arte, no? Però l'elemento evoluzionista è tipico dell'Ottocento, questa ossessione quasi lineare. Quello che voglio dire è che io da bambino ero fanatico di Yuri Gagarin e Valentina Teresco, c'è tutto quello Space Age. In Russia, per esempio, è interessantissima la fantascienza russa e le icone, purtroppo su Clubhouse non si può far vedere, ma di fronte a me è una specie di lampadina da notte da bambino russo con la Vostok che parte nello spazio. Scusate la divagazione. Dicevo che io mi immaginavo di vivere nella cosiddetta Futuro House, che era una casa che sembrava un disco volante, fatto da un architetto finlandese, se date vedere su internet, sono dei prototipi, per cui mi immaginavo un futuro Space Age e invece fortunatamente vivo in una casa del 1910. Diciamo che si può vivere modernamente, scusate le mie, se io sono tutto a citazione, dice Paul Valery, quello che chiedo alla tecnologia moderna è di vivere con più agio una vita non moderna. Allora oggi si può stare con un Macintosh di una villa del Palladio e viceversa. Io credo che il futuro sia per sé complesso e un po' babilonico, per cui la città assomiglia più a Blade Runner che all'utopia del primo moderno. Ma per quello Milano ti è tanto cara, che ti occupi così tanto del modernismo, di tutta la Milano moderna. Hai fatto varie cose importanti sui cortili e così, ma quel libro sui palazzi moderni di Milano era splendido. Dicevi che arrivavano studenti da tutto il mondo sempre con la testa in su per guardare la bellezza dei nostri edifici che prima nessuno guardava perché il moderno, il funzionalismo erano tutti guardati male. E ma perché il moderno Milano è stata pesantemente bombardata, un po' a Macchia di Leopardo, rispetto a Rotterdam o Dresda, che li hanno ricostruite secondo un piano modernista, un po' le Corbusierian con queste stecche separate. Io Dresda me la ricordo, prima che ricostruissero la cattedrale, era impressionante veramente, sembrava. O anche Alexanderplatz a Berlino. Si vede proprio l'incompatibilità genetica tra la città moderna, un po' da Lego, fatta di oggetti separati da strade, ma che non sono più strade, sono solo strade per le macchine, e invece la città antica. Se vediamo le viste del Bellotto, ci sono queste 8-9 quadri meravigliosi del Bellotto sulla Dresda Varocca, capisci la differenza. Detto questo, Milano ha fatto una scelta di ricostruire, parlo del centro, ha fatto dei piani dove c'è sì un'architettura moderna per linguaggio, ma dal punto di vista della forma urbana si sono tenute spesso molte strade, non si è ridisegnato il tessuto, per cui noi vediamo. Io vivo in Via Lanzone, ho la fortuna di viverci, vivo vicino a casa Smagovend, è una dei Latis, ma anche Caccia Dominioni, Gardella, Pigni e Pollini, c'è appunto Smagovend, ci sono i BPPR evidentemente. E poi, e poi. Il Nord Europa viene a vederci perché è considerato un moderno che sa interpretare l'urbanità esistente, non si pone come opposizione genetica, come è stato, anche necessariamente così per molto del secolo scorso. Cioè, Le Corbusier diceva, il Fautuela du Corridor, bisogna ammazzare la strada corridoio, è proprio un'idea, e c'è questo progetto di Parigi per 3 milioni di abitanti, dove rade al suolo tutto, lascia il Zorifel e Notre Dame. C'è qualcosa di violento nell'ingegneria sociale del moderno? Ve lo lascio a disposizione, se no non voglio toglierlo io. Lui è stato attivissimo, tutto il lockdown ha anche sui social, su Facebook e così, continua, ha delle grandi passioni ed è un grande collezionista di cose anche curiose. e sempre fotografa, commenta, esplora tutto questo mondo speciale, per cui è stato uno dei più attenti. Lui è Stefano Boeri, sa che Stefano, poverino al Covid, doveva intervenire anche lui oggi, ma mi ha detto se se la sentiva intervenire, ma se no leggero, dice provare a casa, mi lascio. Cino, tu hai studiato al MIT di Cambridge arte e design e poi in architettura ti sei laureato al Politecnico. Quanto incide l'arte all'interno dei tuoi lavori? Perché poi ti sei ritrovato giustamente a disegnare musei, mostre, case, ma c'è un trade union in tutti questi progetti, ok la cultura, ma il privato, le città, l'arte, che ruolo ha nella tua progettazione, nella tua cifra architettonica? Allora, talvolta mi è capitato di disegnare spazi per l'arte, però questo forse è una categoria, perché disegno anche case, uffici, un po' di tutto. Lo studio non è molto specializzato, però invece per tutta la vita mi sono mandato quanto il modello, chiamiamolo, scientista dell'architettura, del primo moderno, per cui l'architetto scienziato che ha il camice bianco, e che non ha pregiudizi formali, per cui analizza, se deve fare una scuola, analizza il numero dei bambini, il corso del sole, lo stress del metallo, il budget, la geologia del suolo, e così via, mette tutti questi dati in un metodo, con la M maiuscola, e dall'altra parte viene fuori la scuola. Questo modello è un po' caricaturale, ma di un'idea che l'architettura fosse una scienza esatta, dove non esistevano pregiudizi formali. C'è quella famosa distinzione che Levi-Strauss fa tra ingegnere e bricolore, nel pensiero selvaggio, dove lui dice, l'ingegnere ha metodo e non forma, la forma è l'ultimo, mentre il bricolore ha una scatola di oggetti conosciuti e li ricombina, come fosse un Robinson Crusoe, che fa un riparo da una chiglia di nave. Allora, lui dice che l'arte è a metà tra l'ingegnere e il bricolore. Tornando alla... Io non so se l'architettura sia un'arte, innanzitutto. Diciamo che lo è a metà, è forse un tema interessante. Non ha la libertà dell'arte pura, perché la gente vive... Diciamo, secondo me, la casa è della persona che vi abita, non del suo autore. Quando io sono andato a visitare la pedrella di Gaudì, l'appartamento, Gaudì, quella che c'è, c'è a questo tetto meraviglioso, con i camini a forma di soldati medievali, ma dentro l'appartamento pur meraviglioso io non ci sarei mai vissuto, perché è vivile il cervello di Gaudì, in un certo senso. Se hai la vecchia mobile della nonna, non me la sentirei mia. Questo parlo della casa. Finisco e dico solo una cosa sul tema delle procedure artistiche. Io sono un uomo di molti libri, molto anche anarchico dal punto di vista dell'educazione, ma ho scoperto in tardetà Paul Valéry, non come poeta, perché era un mediocre poeta, ma come saggista maniacale, e lui dice una cosa che secondo me è tra le più interessanti definizioni sintetiche dell'arte. Lui dice, dovunque c'è più la scelta possibile, dobbiamo chiamare un artista. È proprio dell'artista scegliere. E poi dice, l'artista è colui che sa trasformare l'arbitrio di una scelta iniziale nella necessità che emana un'opera conclusa per quello che potremmo chiamare la consistenza. Io credo che questo sia vero anche il nostro mestiere. Cioè, quando io adesso, oggi pomeriggio sono in studio, sono qui a pensare a un nuovo progetto. Evidentemente ho molta conoscenza sulle case, sui mattoni, cioè, c'è tanta scienza sul corso del sole. Però, schizzo in libertà, no? E sempre, scusate le tante citazioni, Fusli o Fuseli, inglesizzato, era amico di William Blake, dice, In arte molte cose belle si trovano per caso, ma si conservano per scelta. Spesso succede anche a quelli che scegliamo che sia il nostro compagno. Io e mia moglie l'ho conosciuta alla festicciola di carnevale per un tuo caso. Allora, questo tema di pensare in libertà con una cultura, ma per un momento c'è una suspension of disbelief, del gusto, e dopo applicare, scegliendo dell'ipotesi, in senso darwinista. La mutazione è casuale, ma poi interviene il survival of the fittest. Cioè, in un certo senso, il mio metodo è estremamente darwiniano, di approssimazioni successive, ma ci vuole un'intuizione iniziale che poi è falsificata. Questo è molto importante. È artistico, ma nel senso di Paul Valéry, non dell'artistello del pittore della Domenica. Chiarissimo. Ora uso io una tua citazione. Vorrei che la mia architettura fosse bella come una canzone di Belle Sebastiene o come i tuoi stori 3. Ho pianto quando ho visto quei film perché la Pixar è in grado di realizzare un meraviglioso prodotto tecnico, ma con molti livelli di compressione. Può piacere a un bambino di 4 anni, ma anche a un adulto che ne ha 40, o anche a qualcuno che ne ha 61 come me. Quindi parliamo di accessibilità. Su questo tema, oggi più attuale che mai, in questi giorni e in futuro, l'accessibilità e la comprensione. Cosa ne pensi? E allora diciamo che l'architettura, sempre parliamo di un'altra, non seleziona il proprio pubblico. Nel Sant'Andrea di Mantova ci può entrare uno storico dell'arte tedesco-americano e parlare della divina proporzione a sezione aurea, una signora che accende il cero dicendo spero che mio figlio passi l'esame di composizione 2 con l'architetto Zucchi. Allora, noi non scegliamo il pubblico. Come ci sono molte copiche, per esempio ce n'è una bellissima con Danny DeVito, si chiama Raining in Philadelphia, che lui prende in giro Gagosia, fa il critico d'arte che entra, dice meraviglioso e poi vede un condizionatore. Quelle gag che puoi fare sull'arte contemporanea, ce ne sono di Iacoviti e così via, vuol dire che lo scolo a bottiglie di Duchamp lasciato per strada passa l'AMSA. Anzi, mia madre aveva trovato in cantina esattamente lo stesso a scuola bottiglie. Gli ho detto, mamma, se lo metti nel salone, lo illumini con i faretti, lo metti su un piedestallo, nessuno oserà pensare che non fosse Duchamp Vero. Allora, voglio dire che molta dell'arte contemporanea ha bisogno dei musei o certe situazioni come documenta di cassa o a biennale per essere interpretata. C'è quel film anche di sordi, le vacanze intelligenti che c'è a molte gag sul tema. Ora, detto questo, poiché l'architettura non seleziona il proprio pubblico, io sono, diciamo, per un'opera leggibile più livelli, dove il livello terzo non sconfigge il secondo. Ho una specie di fastidio verso l'ermetismo nell'arte. Questo non vuol dire che devi essere populista, anzi, però Walt Disney di Cenerentola ogni volta che li vedi e per quello a me piace il pop sofisticato di Bella Sebastian, perché, o anche tanti, io credo che la vera musica vitale sia il rock, però qui sarebbe un discorso troppo lungo, perché ha dei livelli di sofisticazione ma anche orecchiabile. Per esempio, non esiste una musica contemporanea, un argomento che usava un po' baricco sul tema esiste oggi una musica classica popolare come fosse Mozart, o se no, allora lo devi andare a seguire. Oddio, c'è in Audi ma un po' troppo new romantic e poi lì c'è un tema un po' anche di effettarci anche nel classico vedi Andrea Rocelli e così via, un muso kitsch dell'arte alta. In altre parole, lavoro con cuffie 24 ore su 24. E la tua architettura quindi è rock, se la possiamo descrivere? Sì, a me piace l'indie music canadese, sono gli amici dei miei figli vengono a chiedermi consigli e conosco dei complessini così, ho sui miei iTunes 90.000 canzoni di complessi totalmente sconosciuti, una volta sono venuti ai studenti canadesi in studio, pensavano forse uno scherzo a parte, non sto scherzando, venuti qua quando ho visto i miei cd pensavano, non potevano credere che un professore di 65 anni italiano conoscesse i gruppi più trendy, pazzeschi, però detto quello poi sono molto eclettico, c'è anche tutto, per esempio Fabrizio De Andrè è un evergreeni di miei figli, lo sento tanto quanto noi, per cui esistono anche, è interessante tutte le culture, al di là dei revival, delle mode, esistono anche autori trasversali, per esempio intergenerazionali. Senza dubbio, è citato De Andrè anche io, adoro e devo, tanto ai miei geni e ai mio babbo che lo ascoltava da quando eravano piccolini e poi da lì ti rimane, ma se vai a vedere anche le statistiche per esempio su Spotify vedrai che hanno anche loro milioni di ascolti e questo è sicuramente cenno di grande attualità della loro musica del pensiero. Niccolò, Niccolò Architetto fa gli Architals qua su Clubhouse, a breve inizierà anche la sua serie e quindi felicissimo di averti con noi Niccolò. Ciao, ciao. Ciao Cino, ci siamo sentiti venerdì per il messaggio Ciaccarella, ciao Anna Maria. Prego Niccolò. Allora, grazie mille di avermi dato la parola e grazie a Cino di essere qua perché l'ho reputo veramente un maestro della composizione in architettura e poi secondo me la riporta molto anche nell'arte. Per esempio io mi è rimasta impresso l'installazione che ha realizzato alla XIII Biennale a Venezia Common Ground che la reputo molto attuale perché diciamo che abbiamo vissuto un periodo diciamo comune a tutti e quindi con tutti quegli stessi problemi. volevo sapere se nella tua installazione CopyCat dove hai realizzato questi moduli queste composizioni che secondo me riprende la tua architettura dal tuo linguaggio che sono una sorta di wunderkammer di oggetti se dopo questo periodo di quarantena di covid aggiungeresti qualcosa a questa wunderkammer in questi giorni che sono stati per tutti sempre tutti uguali. questa è un po' la domanda e poi ci racconti un po' questa installazione perché secondo me è molto interessante. Ma è vero che noi tutto il tema un po' abbiamo paura un po' ci chiediamo quanto finirà un po' ci rompiamo le palle un po' cerchiamo di adattarci perché l'uomo è adattativo alle nuove condizioni e per cui riscopriamo un po' la casa a certe forme così per cui o poi ognuno reagisce in maniera molto diversa evidentemente persone single che stanno da solo nel lockdown duro hanno reagito in maniera diversa anche le famiglie e così via nel copycat copycat in inglese vuol dire quello che copia i come dire i compiti degli altri il titolo esteso era copycat empathy and envy as form makers empatia invidia come generatori di forma io quello che volevo sostenere era in forma artistica io credo che l'arte deve esprimere non attraverso la filosofia i tedeschi confondono sempre arte e filosofia anche Wim Wenders lo fa mentre i francesi lo sanno sciogliere nei film francesi la filosofia della vita è sciolta i tedeschi sempre fermano Thomas Mann il dottor Faust ferma la scena e ti fa il pistolone nel dialogo di tre ore sulla cosa per cui a me piace dire le cose non in forma filosofica ma in forma artistica per cui in forma empatica detto questo il concetto sarebbe anche una teoria seria della formatività che per esempio è quella di George Klupl di The Shape of Time o anche per esempio c'è un bellissimo librettino di Fossiola la vita delle forme dove io credo che anche se vogliamo la forma della tecnica per esempio se voi andate sul mio Instagram adesso qualcuno mi ha preso un po' in giro sui miei sottomarini c'è la mia collezione di sottomarini che avevo esposto proprio lì che sono dei modellini e nel senso darwinista credo che tutta la storia delle cività cigianali sia una storia di variazioni e consolidamenti cioè qualcuno inventa qualcosa come le barzellette come le leggende sostanzialmente vuol dire che non si riparte sempre da zero per cui in common ground a terreno comune che era la tesi di Cipperfield io ci era un discorso contro l'originalità ma questa idea che bisogna sempre essere originali c'è un bellissimo saggio di Douglas Ostater che è un genio dell'intelligenza artificiale che si chiama Variations on a Theme as the Crux of Creativity che è uno dei saggi più belli e che fondano più il mio pensiero che ho mai letto lui dice anche le scoperte scientifiche molte grandi scoperte sono state fatte non saltando di paradigma ma in realtà inserendo un virus in qualcosa che conosci e andando perseguendo con coerenza le conseguenze per cui l'idea che esiste una civiltà della forma anche qui non l'eterno presente in continua evoluzione per me è fondamentale allora molto spesso il concetto di creatività moderno una parola che io odio abbastanza la parola creativa sono creativo non si capisce mai se cosa è ignora del fatto che noi siamo anche degli animali con neuroni specchio cioè che al fine ci copiamo anche in altre parole si può parlare di una specie di copia trasformativa che non è per forza negativa questo è un tema e che anche pone in relazione dei singoli oggetti a diciamo una specie di cultura materiale collettiva questa era un po' la tesi fatta attraverso sostanzialmente facendo vedere oggetti in sequenza per piccole differenze e ho fatto vedere sottomarini dei ciapati rollers che sono delle specie di rollapane del Rajasthan bellissime bellissime erano tutti oggetti che se rassomigliavano cioè che avevano per esempio ero andato a chiedere al museo di scienza naturale quelle scatole con dentro gli insetti cioè c'erano delle scatole di insetti sai quando metti tutte le ordinate tutte erano delle sequenze formali date da micro variazioni Fiore no no niente volevo dire che il concetto di Picasso Gebrauze e poi l'elaborazione è così la genialità è quella nel vedere non vedere in certe cose poi avere la la genialità di rifare ma a modo proprio in modo eccezionale dopo mi parli della nuvola lavaccia che ha cambiato una parte di Torino è stata una cosa bellissima veramente lì è l'intervento dell'architetto che riesce a modificare una parte di una città ecco ci vuoi raccontare adesso Ciro Cino falli adesso Fiorella è facile accendermi difficile spegnere come un box rotto per cui se c'è gente che altri che vogliono interloquire è la prima volta che sono su su Clubhouse per cui sono un neofita diciamo in questo mi sento un po' come quel film Eyes Wide Shut c'è un film con Nicole Kidman Tom Cruise di di Kubrick di Kubrick che non è il più bebel film ma mi sento un po' nel castello misterioso per cui sono interessato a vedere gli altri mascherati cosa dico allora Narita cosa ci racconti benvenuta ciao a tutti buonasera architetto io avrei tre domande ma inizio da una sola domanda nessun panico e poi se c'è tempo ne ho anche altre due la prima è un concetto sul quale sto lavorando e sul quale non sono completamente d'accordo ma mi interessa la sua opinione c'è la città di 15 minuti attenzione non è futuro ma è presente lo dico perché ho sentito la parte sul futuro ma è presente per quelli che non lo sapessero vuol dire creare delle micro aree anche nelle metropoli in cui i servizi essenziali sono a 15 minuti di distanza ma metto sul piatto architetto anche una piccola obiezione io sono profondamente metropolitana proprio perché voglio mischiarmi con il resto del mondo allora le chiedo cosa ne pensa se voglio ovviamente di raccontarcelo sono assolutamente d'accordo nel senso che anche qui è una storia lunga poi in questo senso c'è un po' un ennui anche con amici che i giornalisti sempre diteci architettura sarà diteci bisogna spesso semplificare le cose in forma comunicativa fino a farle diventare banali allora il concetto della riscoperta del quartiere del neighborhood è addirittura di Jane Jacobs quando parla nel 60 del Green Beach Village in fondo New York per paradosso parlo di Manhattan aveva già questa città da 15 minuti però la dimensione metropolitana come dice è fondamentale cioè io non credo al villaggio a parte che il villaggio può diventare anche segregativo ma la metropoli è il luogo delle diciamo degli scambi anche alla lontana che oggi sono anche aiutati dalla comunicazione informatica cioè io ho rapporti diciamo così non è detto che io sia più amico del mio vicino anzi prima parlavo di studio quanto mi sta sulle balle vicino non dico che piano perché dopo magari è un coso di ma e viceversa ho rapporti tutti noi facciamo parte di un'isse mistica complessa io sono il padre di Anna Zucchi scolare sono più scolare ma come dire il professor Zucchi il coso così magari appartengo al club che ne so e tutto questo nella stessa persona allora noi non possiamo pensare a una metropoli se non per esempio legata anche dei dei mezzi di trasporto pubblici e questo è anche un bene perché a Parigi non è che il quartiere dell'opera è fatto tutti da melomani il quartiere è la cosa di amanti io posso vivere di fronte alla scala senza essere mancato la scala non so come dire e questo è un bene allora secondo me se si intende la città di 15 minuti come quel trovare certi tipi di servizi da neighborhood a oggi per esempio tutti i grandi supermercati hanno fatto a meno a Milano è piena di una riduzione scalare del supermercato urbano e fanno dentro i 200-300 metri quadri è come se Cafu o Le Selunga tornassero in città facendo un downsizing molto forte rispetto alla spesa suburbana uno torna a casa e fa la spesa quello sono d'accordo però ignorare la dimensione metropolitana secondo me è una sciocchezza e anche la ricchezza della città e in ogni caso alcuni servizi ma sono addirittura di tipo globale io magari sono fortunato però mi ricordo 3-4 anni fa che lavoravo in Olanda prendevo la mia Vespa andavo all'Inate lasciavo la Vespa nel parcheggio l'ho fatto anche ieri sono andato in realtà ad Andria e prendevo l'aereo andavo a Skidpole Skidpole non entrava in Amsterdam perché è legata a una rete ferroviaria prendevo un treno veloce direttamente all'aeroporto andavo a Utrecht senza entrare in città a Utrecht prendevo un tram andavo a lavorare facevo lo stesso percorso indietro e non sto scherzando tornavo a cena mia moglie è una che cucina bene col pisottero e fuggi cioè facevo il pendolare giornaliero secondo questa sequenza invertita è una dimensione anche esistenziale quella come si fa a pensare che non sia per cui l'Europa è anche un grande paesone adesso poi dipende le singole persone dove vivono per cui possiamo mischiare dimensione metropolitana e dimensione da piccolo paese sono d'accordo con lei grazie grazie dopo nel caso altre due ma solo se c'è tempo non ti preoccupare Anna le facciamo subito Roberto ciao prego buonasera buonasera professore grazie di quanto ci sta raccontando senta le faccio una domanda per un amico si dice scherzi a parte perdone ma scherzi a parte è vero perché è proprio un amico che esiste su questa domanda e quindi io le la rigiro professore esiste ancora l'urbanistica non dico tanto come assessorato regolamenti che poi affondano ma esiste ancora un progettare urbanistica o solo lottizzazioni piani di zona o cose del genere e sono tutte domande da 100 pepitoni aiuto allora grazie questa domanda difficile c'era uno scienziato che diceva non sono io a parlare difficile sono difficili le cose di cui stavo parlando per cui mi scuso è una scusante per la logorea allora diciamo così l'urbanistica c'è sempre stata dai tempi di Sisto V quando ho fatto le grandi rettifili a Roma ai tempi dei Longobardi come dire così il problema è che la parola urbanistica nasce in un determinato momento storico secondo me nel momento di passaggio tra città e metropoli cioè nel senso che dalla fine dell'ottocento tutto il tema la città giardino la gente a un certo punto ha capito che la scala delle aggregazioni urbane cambiava e dovevano cambiare alcune cose per esempio c'è quel famoso fresco del Lorenzetti buon governo nella Siena medievale il verde era fuori tu camminavi c'era la campagna ma c'era bisogno del parco seppione dentro Siena evidentemente per cui la dilatazione scalare della metropoli ha creato una serie dei problemi che essa stessa doveva risolvere allora i quartieri satellite le zone industriali tutte queste cose qua i downtown centri culturali per cui l'urbanistica dello zoning era pensata per una città in espansione dove io dovevo dare ai nuovi bambini una chiesa un servizio una scuola è una disciplina del tutto seria ma è di una panificazione espansiva noi siamo oggi forse nel secolo della modificazione a città almeno in Europa perché in Cina costruiscono città da 30 milioni di abitanti 5-6 anni è una roba impressionante la Cina è un altro mondo parliamo dell'Europa adesso allora questo tema della metamorfosi che poi alcuni chiamano rigenerazione e così via è fondamentale e c'è un tema anche di rapporto pubblico privato cioè nel 1890 il cimitero monumentale il cimitero maggiore il macello il parco erano costruiti dal pubblico cioè non dimentichiamo che il pubblico costruiva le grandi infrastrutture non solo viarie ma anche proprio di uso le scuole gli istituti e così via adesso il pubblico ha molti monosoldi per cui deve cercare di negoziare col privato e questa è una cosa anche positiva io lavorando anche un po' in Olanda è molto interessante è come se dovessi fare una roba zen di usare poi ci sono città che lo sanno far meglio per cui c'è stata in certi momenti di Milano la svendita al privato cioè come dire noi non sappiamo più cosa fare ti do tutto a te l'altro è un tema di collaborazione dialettica e però faccio un solo esempio la fondazione Prada è successa lì ma poteva succedere in qualsiasi altro punto di Milano nel senso che a Aguzzo di Miuccia Prada poteva comprare una fabbrica di smessa ce n'era tante e a questo punto non è contraddice completamente il modello pianificatorio da piano quinquennale se pensiamo ai piani regolatori degli anni Ottanta dicevano la città deve andare di là piuttosto che deve andare di là piuttosto che su piuttosto che giù si discuteva sul modello a turbina il modello a doppia T c'era Gigi Mazza De Carlo adesso senza entrare cose disciplinare e come dice John Lennon la vita è quella cosa che succede mentre stai lì a fare i piani per la vita ogni tanto mai viene da dire la città è quella cosa che succede mentre stai lì a fare i piani per la città questo non vuol dire che io non credo anzi ci credo profondamente che il pubblico debba pianificare ma le forme di questa pianificazione almeno nel nostro sistema politico e nel nostro sistema economico non sono più di quella natura no? è che una volta che c'è la fondazione Prada ecco che lì per paradosso tutti si sono accorti dello scalo di Porta Romana non è solo sono situazioni sinergiche però è un grumo di qualità che genera un'attenzione su quel quartiere e funziona un po' al contrario e questo questo è un fenomeno da guardare no? nel senso che non so se ho risposto poi non credo alla pianificazione ma non credo neanche all'asservare certamente c'è stato dei momenti come dire noi non siamo capaci a lei arriva qualcuno con dei soldi fate voi per cui ogni tanto il pubblico deve sapere esprimere obiettivi chiari per il bene pubblico e giocare un po' di deviazione rispetto il problema è fare un gioco a carte scoperte tutti devono saper fare il loro mestiere senza un modello Don Cabillo Peppone no? cioè il capitalista la groz col cappello sul dollarone e il pubblico così io credo che negli ultimi 15-20 anni a Milano non è tutto assolutamente c'è stata un'evoluzione molto forte sia da parte pubblica sia da parte privata cioè diciamo il punto più basso sono stati gli anni 80 infatti ne vediamo ancora gli esiti allora dico forse non è stato tutto perfetto ma ecco un ultimo tema un tema che secondo me ancora è molto importante e non è pensato ancora bene quello delle infrastrutture di trasporto cioè c'è un tecnicismo ancora nella metropolitana io adesso sono in micro polemica con le stazioni a metropolitana a Sant'Ambrogio lì e a San Lorenzo ma non si può fare delle cose così sciatte che viene su con l'ascensore dove capita cadono coio coio allora secondo me sia per le ferrovie e sia per le metropolitane se vai a nord Europa una stazione è un elemento d'uscita è un elemento urbano se vedi a stazione di Bovisa vicino a Politecnico non si può vedere cioè sono dei crimini contro l'umanità degli anni Ottanta perché è un pensiero tutto tecnocratico allora i punti di passaggio tra l'infrastruttura diciamo di trasporto specialmente pubblico e la città l'urbanità perché sono dei punti fondamentali l'Italia ancora un po' indietro bene posso tranquillizzare il mio amico che non esiste più l'urbanistica in pratica grazie è finita professore grazie Cino prego Fiore prego Cino verso il 2005 sono andata a parlare con l'ingegnere che si occupa della progettazione di New York e gli avevo chiesto se che cosa prevedeva per il futuro per gli anni 10 20 e così è impossibile progettare una zona di New York noi pensavamo prima che con Sopo sarebbero rimasti lì c'erano prima gli artisti poi sono arrivati gli stilisti la moda tutte queste cose e gli artisti vanno via artisti architetti fotografi eccetera e si sono spostati tutti in altri luoghi però noi abbiamo sempre pensato che poi lo spostamento sarebbe stato procedendo di lì invece sono andati nel Queens per cui non è progettabile niente che è un po' il discorso che dici tu allora questi sono fenomeni in inglese si chiama gentrification complessi evidentemente che c'è un tema di inclusione sociale per cui ogni dovunque c'è rinnovo urbano c'è anche il rischio di espulsione di classi che lì stavano per ragioni economiche no cioè questo certamente c'è per cui come rinnovare la città senza creare cioè se noi prendessimo quartieri spagnoli di Napoli ci mettiamo dentro Angelina Jolie Brad Pitt non so chi cosa così Fedez e la Ferragni che stanno lì ad Azadid di colpo diventano bellissimi lo stesso posto ma questa cosa allora io credo che esiste dei meccanismi micro e macro economici spontanei che non hanno a che fare con la pianificazione però questa è una città consolidata quando si fanno delle cose nuove evidentemente il trasporto pubblico è uno degli elementi fondamentali ero 3-4 mesi fa ad Amsterdam ed ero con un collega e lui mi ha detto guarda questa cosa qui di Amsterdam Sud ha detto negli anni 60 o dopo i pianificatori di Amsterdam hanno fatto tutto il piano verso nord dicendo l'espansione l'aeroporto a sud e si è creato per puro caso un'azienda che si è localizzata lì e di colpo quello è diventato una edge city e mi ha detto è chiaro a tutti che la città si sviluppa nella direzione dell'aeroporto quelli lì non avevano capito niente io non so se sia vero a livello metropolitano è chiaro che magari l'asta per Balpensa per oggi c'è anche un tema interessante sull'inante e così via parlo in termini territoriali tornando al tema della gentrification è un tema secondo me che ha a che fare appunto con la cosa che dicevo prima però va regolata più in termini forse economici che di pianificazione e di disegno forse lì magari alcune cioè io credo che l'urbanistica forse si possa fare oggi con delle tassazioni queste cose così per cui non conosco quel lato lì ma credo che più che chiamare architetti a parlare la città bisogna parlare vedo vedo Lucia De Cesari io sono nuovo di qua ma chi più di lei può è una provocazione avendo fatto il vice sindaco l'assessore urbanistica intendendosi di leggi e di cose forse direi che la città la fa più loro e che benvenuta da e si piace parlare benvenuta da ricordo a tutti che stiamo registrando per archivio piacere Ada piacere no ma io trovo anche molto stimolante l'ultimo intervento di quello su Fondazione Prada e lo connetto anche alla domanda è finita l'urbanistica ma in realtà io non penso che sia finita l'urbanistica penso che l'urbanistica debba profondamente cambiare quello che è successo è Fondazione Prada ne parlo perché ero io l'assessore perché è stata veramente una grande novità ci dà l'esempio di quello che secondo me proprio Cino diceva e cioè che ci sono dei momenti in cui l'oggi richiede di fare alcune cose inevitabilmente chiedono regole diverse e scelte diverse regole diverse proprio dal punto di vista della realizzazione che va dalle volumetrie dalle altezze ma anche scelte diverse lo diceva molto bene Cino prima con riferimento ai trasporti allora per rispondere forse alla domanda di chi non so se Cino è d'accordo la domanda di chi diceva l'urbanistica è finita no l'urbanistica non è affatto finita ha bisogno di cambiare ma soprattutto ha bisogno di liberarsi di sciogliere tutta una serie di node e di catene e di capire che sempre di più sono necessari alcune linee di indirizzo d'utili generali che possono anche essere decise dalla politica ma dentro poi ci deve essere la capacità di capire che cosa può succedere in quel luogo e che cosa quel luogo ti può dare quel luogo dove c'era la fondazione Prada era tutto molto dismesso e un po' triste con un unico intervento ha piano piano permesso di ricostruire e di ridisegnare e Padate lo ha fatto e lo dico con orgoglio perché c'è stato qualcuno che ha avuto il caraggio di dire qui le regole le deroghiamo e l'abbiamo fatto non facendo del male della città ma sapendo che avremmo potuto dare qualcosa di buono alla città quindi questo è veramente forse uno degli elementi più interessanti di questo periodo e con questo rispondo anche a chi parlava prima della città per i 15 minuti allora distanza anche questo rischia di rimanere dobbiamo stare molto attenti a non confondere alcune cose un po' ideologiche un po' demagogiche con appunto la necessità di far crescere la città e di permettere alla città di rispondere sempre di più alle esigenze dei cittadini anche se come diceva Cineo poi costruire significa fare delle cose dure ci vogliono 10 anni e non è che le modifichi con uno schiocco di dita quindi è molto importante come si immagina la parte pubblica ma anche come si immagina la possibilità di modificare l'intorno di quello che tu pensi oggi che verrà realizzato a 10 anni quindi io penso che alcuni servizi sia giusto averli anche i 15 minuti ma che badate la bellezza della città e soprattutto di una città come Milano e di poter essere attraversata da un polo all'altro e la cosa straordinaria è che io posso partire da San Zino e andare lo ripeto a vedere non lo so Parco Forvanini o la Fondazione Prada e quello che noi dobbiamo fare è rendere ogni angolo della città attraente e vivibile perché tutti noi dobbiamo possedere l'intera città quindi attenzione è importante vivere il quartiere la bellezza del proprio quartiere avere dei servizi comodi peraltro in un mondo digitalizzato questo serve relativamente ma dobbiamo anche imparare a possederla tutta la città perché se no soprattutto a valle di questo momento che ci sta così costringendo e ci sta chiudendo rischiamo veramente poi di dimenticarci che il nostro territorio è l'intera città non so se sono stata chiaro chiarissima chiarissima e grazie tante Ada preziosissima Cino una domanda in questi giorni starei sicuramente progettando per gli anni a venire quanto incide la situazione attuale anche nella progettazione state predisponendo spazi diversi in luce delle distanze penso che sia una bella sfida anche capire la durata la permanenza o sarà qualcosa ormai di dato di fatto ma provo a rispondere trasversalmente per andare anche quello che mi ha chiesto Fiorella sulla Varza senza far pubblicità relazionale però Giuseppe Lavazza mi ha chiamato ma ha detto Cino non sai quanto ha funzionato bene l'atrio che tu hai fatto durante il covid perché noi avevamo dei sistemi di controllo di accesso ai posti molto in modo e la generosità di questo spazio naturalmente anche poterlo permettere ho fatto un atrio molto passante che ha dei sistemi di controllo per andare agli uffici ma in realtà tutti possono andare dentro c'è la mesa c'è uno sfiato per esempio verde diciamo che una cosa progettata prima del covid si è rivelata funzionare molto bene per questo tema che dicevo prima della generosità il problema è che la generosità non deve diventare cara per cui questo vale per gli sfiati di spazio aperto per degli elementi per esempio di flessibilità prima ancora Adaluccia del Cesare parlava che per esempio potremmo dire in certi casi ma questo anche pre-covid io l'ho fatto anche un po' in Austria la città autocentesca parliamo della prima espansione del Beruto la zona di Porzo Magenta così in fondo aveva una reversibilità tra destinazione a ufficio e destinazione a casa dove un ufficio notarile diventava casa e viceversa io stesso ho lavorato a casa man mano che si è specializzato l'edificio uffici con l'impiantistica vetrate brissolè e così via si è sempre più distaccato dall'ufficio della casa borghese è diventato in sé adesso ieri c'era scritto che sono al 50% vuoti la gente sta ripensando per esempio alla natura di questi grandi edifici uffici anni 80-90 tutti aspettino ora non dico di tornare alle buone vecchie cose di pessimo gusto come dice Anzano però stiamo ragionando se sono possibili fare degli edifici per quota parte possono avere una reversibilità tra spazi di lavoro e spazi di diciamo di casa questo è molto interessante mi sono chiesti di progettare c'è un tema di altezze non è così facile e io conosco molti casi di riconversione di spazi uffici a case e viceversa e questo caso si può fare una cosa che non è del tutto generica cioè che non sia solo uno scatolone che abbia degli elementi fondativi di buona distribuzione e dopo invece degli elementi generici sempre un po' prima Fiorella parlava io da giovane ho fatto un libro sui cortili milanesi ho analizzato tutti i cortili il Brera la Statale pensiamo all'Università Statale che in fondo nasce come ospedale maggiore diventa università e ospita pure fuori salone del Salone Mobile il Brera il collegio dei Gesuiti il palazzo del senato era il collegio elvetico e quanti cortili milanesi il cortile è sopravvissuto perché è uno spazio meraviglioso e generico cioè è specifico nell'architettura lì sta il nodo non è un container ha un'architettura precisa ma un modo di usare lo spazio aperto io credo che queste cose sono compatibili della contemporaneità evidentemente non sto mica dicendo di fare i cortili a doppio ordinato evidentemente ma per cui la mia risposta al Covid poi dopo il separatore con i plexiglass lo lascio a quelli che fanno i mobili cioè sto dicendo solo che in realtà gli edifici non è che tutti reinventiamo la città ecco un tema delicato sarebbe questo se noi pensiamo a Milano 2 come Berlusconi diceva mentre gli urbanisti a sinistra e così ho fatto la vera città non c'è dubbio che Berlusconi abbia intercettato un desiderio degli anni 80 ho il balcone invito gli amici mio figlio va a scuola come dire senza sul ponticello senza macchine ho anche un po' di controlli in giro quando vai a Milano San Felice c'è un po' la guardiola delle comunità omogenee socialmente così via io non vivrei mai Milano 2 però conosco gente che vive magari i ragazzi sono per esempio le scuole sono un elemento molto importante anche di coesione sociale tra i genitori non arrivo a dire quello potrebbe darsi che la via di mezzo che certe forme di controllo un po' di fobia sociale che rimarranno non sto rivalutando quello ma per paradosso certe comunità per esempio ho scoperto che Milano 3 ha una comunità coreana molto grande perché certi modelli non nel centro città di controllo di col così per cui il tema della diciamo dell'immigrazione come il centro di Torino negli anni 80-90 era tutto di immigrati i ricchi si erano spostati tutte sulle colline così è molto interessante vedere come ondate di immigrazione dai customs molto diversi riusano a città esistente questo è un altro tema che faremo per esempio a Milano certamente Paolo Sarpi e Cianatown sarebbe da studiare come micro urbanistica del rapporto tra socialità e modifica dello spazio grazie Daniele benvenuto tu che anche tu a vostro modo con gli spazi lavorate quotidianamente state pensando a nuovi modelli ciao ciao Andrea ciao Cino ciao sto tornando in auto con la famiglia che dorme tutta quanta per cui ho sentito Cino che è sempre un grande no mi viene da pensare che tutto il tema della tecnologia potrebbe forse aiutare a comprendere meglio in maniera quasi predittiva in alcuni casi le visioni sul futuro delle città forse avevo letto mi sembra che tipo Singapore o altre città avevano insomma in qualche maniera colto tutto il tema del micro e big data per comprenderne un po' di più no e quindi insomma tutto il tema della liquidità che entra a gioco forza anche nelle visioni del futuro in termini urbanistiche ma non solo potrebbe forse essere insomma un tema da indagare per il pubblico e il privato perché poi anche ascoltando Cino e poi altri insomma c'è l'aspetto di pubblico e privato che è sempre più insomma anche quello borderline per cui insomma dovremmo trovare delle forme probabilmente anche lì di connessione che ti permettono di sviluppare in maniera più sinergica di tutto e quindi mentre noi insomma sul nostro mondo non abbiamo adottato il Plexiglass lo odio profondamente io personalmente lo odio però insomma diciamo che non abbiamo non abbiamo avuto poi grandi grandi complessità se non quelle del tema del lavorare da casa del studiare da casa perché insomma abbiamo solo implementato un po' di soluzioni per sfruttare i microspati però insomma non è così complesso poi il covid non è che ha portato una roba davvero radicalmente diversa sull'ambiente domestico se non maggiore flessibilità sostanzialmente di fatto è tornata una grande centralità della casa gioco forza non so quanto durerà anche post covid però per ora c'è molto forte quindi questo un po' Andrea Cino cosa ci dici sulle tecnologie io sono stato in Cina recentemente puoi insegnare un po' a Pechino e mi sono veramente molto spaventato ma veramente del social control cioè passi davanti uno schermo e ti dico buongiorno signor Zucchi il suo aereo ma avendo amici cinesi così via loro il sistema di fascia recognition di WeChat che loro non hanno Whatsapp di mail tutte controllate loro pagano con WeChat per cui sanno vuol dire che il governo perché le due sa esattamente con chi eri dove eri quanto hai pagato vicino a chi eri e così via e dopo se questo usato in termini di controllo politico sociale è ma altro che Orwell ma cento volte Orwell è una roba e pensate tutte se uno prendesse il nostro computer già e sa tutto i siti che visitiamo pensando alle pulsioni più segrete di ognuno di noi di tipo erotico senza andare nel porno ma è una cosa pazzesca cioè noi abbiamo un doppio che ci conosce se nostra moglie potesse comprare da cosa non sarebbe più tale ma si esploderebbe la società cosa voglio dire che tutta io sono amico anche di Carlo Ratti però tutta Smart City come servizio alle persone è vero è vero che oggi noi possiamo monitorare degli eventi straccando i telefonini e così via però c'è un elemento di fragilità da una parte di pericolo dall'altra di questo ma che non hai un angolo dove tu puoi star solo allora io devo dire che nonostante sono a passo a quei tempi tutta l'ideologia tutta positiva della Smart City non mi va devo dire che due tre anni fa sono venuti degli immobiliaristi da me architetto lei è un esperto in Smart City così così mi ha detto noi in Brasile abbiamo fatto una roba una comunità a 30.000 dopo un oro ho capito che loro facevano vogliono fare una specie di web di quartiere ma sostanzialmente vendere servizi come fosse di adesso ce n'è una si chiama Next Door di Sant'Ambrogio vendo gatto compro coso ma rubato il motorino io sono anche sono anche iscritto a una non la guardo mai ma una community di quartiere ci sono elementi interessanti anche un piccolo annuncio però l'elemento di controllo è inquietante allora il problema è e durante il covid molti temi di controllo sociale legato io no io ero non so se ha funzionato molto in quelle si chiama quella app lì l'ho scaricata subito però c'è molta gente che tende a resistere no a queste cose il problema è in che momento diventa davvero controllata adesso in Europa è controllato per ragioni economiche ti arrivano parli dell'Uzbekistan e ti arriva poi ci ascoltano e ti arriva subito la pubblicità dell'Uzbekistan di cosa quando fosse usata a fini politici fa un po' paura per cui io su sta smart city ma stiamoci un attimo attenti cioè il problema sono gli elementi di difesa della persona non so credo che sia anche questa una tematica importantissima se Singapore ha vinto come smart city o meglio nelle classi risulta quella più indicizzata la Cina è il chiaro esempio sarei curioso di chiedere ad Ada cosa pensa su questo controllo dei big data anche dal punto di vista di sviluppo politico e sicuramente di attività Ada ci sei? io su questo sono laica allora sono abbastanza d'accordo con Cino che cioè smart city in realtà è come dire non so che bella giornata è oggi dipende da che cosa ci vogliamo mettere dentro penso che noi dobbiamo chiederci come può essere la città migliore a servizio dei cittadini più agile più svelta e più sostenibile dove anche sostenibile insomma deve poi avere un suo contenuto che è legato alla qualità alla possibilità di avere bellezza alla possibilità anche di avere verde ma appunto ricordandoci che è una città allora in tutto questo noi possiamo sicuramente avere come dire una città capace di darci dei servizi molto innovativi e anche di darci delle informazioni no? a tempo reale ma ripeto tutto questo per i servizi di base e purché non sostituisca la nostra vita cioè nulla può sostituire una passeggiata da casa mia fino a casa vicino nulla può sostituire il fatto che io alzo gli occhi e guardo la mia pianta questa pianta che è cresciuta in mezzo all'asfalto e che fiorisce ogni anno e che è straordinariamente bella all'interno di una città costruita ecco nulla mi può impedire di avere un rapporto reale e umano con la città quindi secondo me questa cosa delle smart working scusate delle smart city che comunque va spiegata meglio perché appunto è un po' come no? quanto è bella questa giornata no? cioè c'è proprio può essere banalissima questa nozione ecco secondo me bisogna capire che cosa significa certo che mi piace che le macchine diventino elettriche che ci sia meno inquinamento eccetera però ripeto mi piace anche una città che riparta da me e dai noi umani dai rapporti dal fatto che ci parliamo che ci fermiamo e ci prendiamo che ci prendiamo un caffè che incontro la vicina e le chiedo come sta ecco quindi vorrei che tutto questo fosse contemperato però credo di essere stata un po' confusa però insomma la smart city non è proprio il mio tema ok Anna volevi intervenire e poi vi diamo la parola a Flavia sì io non volevo interrompervi prima volevo intervenire sul discorso fondazione Prada mi sembra importante non so se l'architetto è d'accordo Andrea Fiorella se siete d'accordo ricordare che poi c'è stata anche l'esperienza Ica quindi siamo passati dal grande investimento del grandissimo nome tra l'altro ho venuto benissimo Fondazione Prada è uno dei miei luoghi preferiti al mondo e a creare un polo del contemporaneo con Ica quindi è veramente interessante come sviluppo culturale della città Cino se vuoi dire qualcosa se no Flavia vai vai Flavia Flavia cosa ci racconti prego salve salve architetto salve professore salve Andrea e tutti i prosenti io sono una studentessa di architettura e ho studiato a Roma adesso mi trasferirò a Milano per completare gli studi facendo una magistrale e approfitto del contesto informale insomma di avere qua presente il professore per fare una domanda che non lo so è un po' il dubbio esistenziale di tutti gli architetti cioè insomma futuri architetti secondo lei qual è cioè in pochi pochi punti diciamo le sfide che noi ci troveremo ad affrontare cioè adesso un po' noi stavamo parlando ovviamente il tema del covid influenzerà magari nella nostra progettazione il tema della tecnologia delle smart city la sostenibilità però secondo lei quali sono altre tematiche che sicuramente noi ci troveremo ad affrontare e che diventeranno diciamo tematiche quotidiane che affronteremo nel progetto allora sempre proviamo a mettere faccio sono ironico mi prenda in forma se mi scherzo ho avuto la fortuna tre giorni fa di avere Guido Catalano che secondo me è uno dei più grandi poeti viventi è molto ironico ma è un genio secondo me ho pubblicato una sua poesia che si chiama Il Poeta che dice cito quasi a memoria non è così difficile fare il Poeta perché il Poeta signori deve fare una cosa sedersi mettersi comodo e scrivere una bella perché il taxista cosa fa? Guida il baratoneta cosa fa? Il sarto cucce e il medico cura e poi arriva il Poeta che arriva da lontano e tu dai una poesia molto lunga e ti spiega ti giustifica e ti clona e così e va avanti per il loro tormentone e alla fine dice te ne leggo una delle mie sì e 9 su 10 è una martellata nelle palle perché sarebbe cioè prendi in giro i poeti che parlano di tutto a meno che cosa un po' il rischio gli architetti ce l'hanno io non sto dicendo c'è un libro di anni 30 che c'è il progetto La Casa del Sabato degli Sposi allora non sto ma neanche morto pensando che l'architetto deve tornare a essere un decoratore uno che fa la casetta ma ultimamente mi sembra che gli architetti più e più e più e più se non parlo di salvare il mondo e adesso poi l'impegno sociale è tutto un millantamento di cose che dopo tu vedi il progetto e non è così diverso da quello che c'erano già è come se è diventato un chish come dire il mio film è politico sì ma poi c'è Ken Lodge e c'è un brutto film politico non è che come dire dire un film politico dice niente sulla qualità questo rapporto anche con i media perché perché un giornalista non è un critico d'arte non ha veramente strumenti non dico conoscitivi di parlare c'è un quadro di Morandi o di De Pisis c'ha pochi argomenti c'era un architetto diceva oh Giorgio sei sempre a fare bottiglie dal punto di vista dell'arte magari un Cezanne o un Morandi sono più importante di un quadro di un pompier che fa la battaglia di cose allora non sto sostenendo in alcune maniere l'art pour l'art o la citadue per l'architetture ma è diventato quasi un pitch che gli architetti sono i salvatori del mondo sono tutti meno che quello che sanno fare allora c'è una via di mezzo cioè in altre parole io credo assolutamente che noi dobbiamo tematizzare non so a me non è mai piaciuto l'idea tedesca della visione del mondo cioè io credo che in ogni momento persone diverse lavorino sulla propria disciplina e come cittadini sono coscienti di queste trasformazioni e l'insieme di questa cosa genera il mondo non c'è una visione del mondo che poi diventa architettura arte e musica io non credo la musica barocca è molto diversa dall'arte barocca o dall'architettura barocca questa idea che esiste un'unità è un'idea se com'è semplificata ci sono dei momenti che alcune arti sono avanti agli altri tornando a cosa deve fare uno studente di architettura io credo che oggi noi almeno la mia generazione è stata educata come con un architetto demiurgo che faceva c'è questo film sul romanzo di Ayn Rand che si chiama The Fountainhead in italiano la fonte meravigliosa che prende l'architetto degli anni 50 60 sull'architetto come sfida del mondo non lo spiego ma è da andare a vedere con Gregory Peck non mi ricordo Clark Gable un attore figacione ecco detto ciò allora l'architetto oggi è un regista o un decoratore cioè i processi oggi che producono l'architettura sono molto più complessi e hanno figure e il bin manager e quello è la sicurezza e quello è l'altro su così gli avvocati così via che alla fine l'architetto non è l'unico Leonardo disegnava tutto disegnava dagli ingranaggi ai costumi per le feste alle città mentre oggi noi siamo un penso allora la domanda è in una catena di montaggio regolata da un project manager noi siamo il cuoco alla fine che mette la panna montata alcuni architetti lo fanno stanno sostanzialmente carterizzando mettendo una tovaglia colorata sopra un improdotto di ingegneria in questo caso immobiliare così via che non hanno fatto loro per esempio sulle tipologie abitative il mercato degli immobiliaristi crede di sapere tutto in un certo senso non accetta grandi innovazioni per cui finisce a fare le facciate diciamo così è una cosa che diceva Gregotti nella sua forma un po' trombona Gregotti dice molti miei colleghi sostanzialmente hanno accettato di essere totalmente sovrastrutturali questo un po' è vero in parte anche se lui ogni tanto un po' però c'è un fondo di verità l'altro è siamo dei registi come un regista deve saperne un po' di fotografia della psicologia degli attori di arte e così via ma non poi si avvale il direttore di fotografia può darsi anche che è un altro modello è un architetto un po' regista che ne sa abbastanza di impiantistica di cose di urbanistica da fare un po' tenere un po' insieme le cose in ogni caso la nostra disciplina tiene insieme cose completamente diverse io nel fare la vazza per tornare a quello diceva Fiorella io parlavo con la soprintendente e diceva la porta qui non la apri andavo dal VG Fuoco e diceva se non mi apri la porta qui non mi passo andavo a cosa e fuori budget poi c'era la Dora che esondava se non faccio operatia ero un negoziatore continuo dove per rispondere a ogni singola cosa sarebbe stato facile il problema che tutte queste singole cose viste da punti vista locali erano in totale contraddizione tra di loro allora c'era uno scienziato russo che aveva inventato cosa si chiama Triz che è una specie di pensiero laterale russo che parlava della contraddizione tra gli elementi di uno stesso progetto noi dobbiamo gestire le contraddizioni tra il progetto e il resto del mondo ma anche le contraddizioni dentro il progetto per far questo un po' leonardeschi bisogna essere cioè io a meno che uno non diventi un being specialist fa un corso di 150 ore fa quel mestiere lì che forse è molto più facile il renditizio cioè io credo ancora all'architettura ma che bella fatica infatti sono qui la domenica a lavorare io ieri e oggi l'ho lavorato tutti i sabati e domenica per cercare di mettere insieme questa continua negoziazione e trasformarla in forma e poi rimane perché poi la forma è come fare un bambino è facile fare il bambino ma poi il bambino è lì te lo devi tirare su grazie tante noi siamo andati oltre il tempo a tua disposizione sei stato gentilissimo e non possiamo che ringraziarti se qualcuno voleva fare l'ultima domanda se Fiorella voleva dire qualcosa se no andiamo verso i saluti no io volevo ringraziare Cino grazie Cino per essere venuto e poi sempre disponibile sempre come tutta la tua famiglia devo dire anche tuo nonno che era molto amico di mio padre mio nonno patafisico il libro si chiamava l'uomo patafisico extralucido grande uomo mio nonno ma ordinario unicissimo il sarcasmo che ho talvolta forse l'ho preso da mio nonno sì che è un uomo intelligente e sarcastico avevano una società che si chiamava sempre in sé ma mai d'accordo e si vedevano una volta alla settimana per mangiare fare dei pranzi colossali tra loro questo era il nonno e mio papà che non ha più grazie Cino grazie grazie a tutti grazie Andrea grazie grazie a te di cuore a nome di Club Italia è stato bellissimo un contributo torna torna ti aspettiamo torna ciao Ada ciao Flavia grazie Cino buona serata allora noi ci vediamo più tardi alle 21 parleremo di giornalismo e cultura con Anna Rita Briganti Fiorella Natalina Busce insomma tantissime letta e bella tematica anche questa ci vediamo più tardi grazie vi auguro buona domenica grazie ciao 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 arrivederci se quello che hai sentito ti è piaciuto non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify iTunes e gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant che cosa aspetti il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima di ruote che c'è che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti.